Regine Cielo Buon venerdì di pasqua, Sempre dalla nostra cattedrale ci troviamo, condividiamo questo momento di incontro, di spazio, ringraziando anche quanti lo permettono, per poter camminare insieme nella luce pasquale di questa ottava, questo grande giorno di Pasqua che abbiamo iniziato domenica scorsa e che concluderemo con la domenica prossima, domenica in albis così chiamata. Preghiamo con la liturgia di questo giorno, Dio onnipotente ed eterno che nella Pasqua del Tuo Figlio hai offerto agli uomini il patto della riconciliazione e della pace, donaci di testimoniare nella vita il mistero che celebriamo nella fede. Abbiamo pregato con una preghiera di colletta molto bella, preghiera di colletta della Messa, è la preghiera che raccoglie in qualche modo tutte le preghiere che abbiamo nel nostro cuore. Ed è la preghiera della Chiesa, potremmo dire quasi è la preghiera ufficiale o meglio, è la preghiera con la quale ci rivolgiamo al Signore ed è il Signore stesso che l'ha suggerita a noi, attraverso proprio la missione, attraverso proprio il mistero della Chiesa, il mistero di comunione che è la Chiesa. E noi abbiamo chiesto al Signore una cosa molto importante, il dono della riconciliazione e della pace, che sono proprio i doni pasquali. E abbiamo chiesto al Signore una cosa molto importante, quello di saper testimoniare con la vita la fede che noi celebriamo, perché il mistero della vita cristiana sta tutto raccolto e racchiuso in questo segreto. Noi proclamiamo la Ressurrezione del Signore, attendiamo la venuta del Signore e viviamo con la nostra vita questo mistero che proclamiamo e lo viviamo proprio nella carità. Ed ecco allora proprio che ad aiutarci a cogliere questo aspetto della nostra vita cristiana, abbiamo anche oggi un Vangelo molto bello, un Vangelo che ci riporta proprio ai giorni pasquali. Pietro è stato l'ultimo tra i dodici a convertirsi alla gioia. Lo sappiamo dal Vangelo di quest'oggi, tanto dolore è nel cuore di Pietro perché la sua storia è stata molto forte con lui. Pietro ha rinnegato il Signore, il senso di frustrazione aveva preso il suo cuore. Ecco allora che troviamo alcuni degli apostoli proprio là sulla riva del lago di Tiberiade e Pietro che dice andiamo a pescare, quasi il voler tornare alla vita di prima, quasi il voler cancellare tutta quanta l'esperienza in incontro con il Signore Gesù. Ed è proprio in quella esperienza straordinaria che loro faranno di pesca miracolosa, grazie alla parola di Gesù che li rimanda a rigettare le reti nel lago di Galilea, nel lago di Tiberiade, sarà il momento in cui Pietro riconosce l'azione del Signore, che il Signore è vivo, che il Signore è presente, che il Signore è risorto. Per questo allora Pietro si lascia nuovamente abbracciare dal Signore e da Lui si lascia perdonare il suo peccato. E sempre in questa pagina del Vangelo, nella sua continuazione che noi ascolteremo poi alla fine del tempo pasquale, ci sarà proprio quel dialogo tra Gesù e Pietro che è una vera e propria investitura e da parte del Signore al Principe degli Apostoli, dove il Signore chiederà a Pietro per tre volte, Pietro mi ami tu, Pietro mi vuoi bene, Pietro pasci il mio greggio, pasci gli agnelli del mio greggio, affida e a Pietro la guida di tutta quanta la Chiesa. Vogliamo allora anche noi, come Pietro, sentire tutto questo amore di pace e di riconciliazione che il Signore ci rivolge in questi giorni pasquali. È vero, quest'anno abbiamo fatto più fatica a poter fare la confessione pasquale, vuoi per le limitazioni del movimento, vuoi anche per le limitazioni della libertà. Sappiamo anche come la contrizione perfetta dei nostri peccati provoca il perdono del Signore e faremo la confessione quando sarà possibile. Ma questa unione al Signore quotidiana, l'ascolto della Sua parola e anche questi mezzi che noi abbiamo di crescere nell'amore del Signore attraverso l'ascolto della Sua parola, la preghiera comunitaria e personale, ci aiutano a fare esperienza viva del Signore Gesù risorto in mezzo a noi.